Velo, ottimo, dai vai, che riesce di Mirko, attenzione posizione regolare, subito Asa in aria, stiro, la porta vuota, gol, 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 la Juve in gol con Arturo, la Juve in gol con Arturo, la Juve in gol con Arturo, neanche 25 secondi, pronti via, Fratelli e sorelle, la Juve in vantaggio con il numero 23, Arturo, quando il gioco si fa duro, la picchia dentro Arturo, Vidalla, 1-0 per noi, neanche un minuto sul cronometro, Attenzione, segnalazione sul replay di posizione dubbia da parte di Arturo Grazie a tutti